Magro, molto magro, triste, gli austerity. Un Natale all'insegna del risparmio. Nel Bassanese la crisi continua a pesare sulle disponibilità economiche dei cittadini, che hanno quindi deciso di stringere la cinghia e rinunciare a regali e vacanze per le prossime festività. Pessimo per le vendite. Un po' scarso, un po' di crisi, molta. Insomma, un Natale low cost, l'ennesimo da quel 2008 segnato come anno di inizio della recessione. Intanto però c'è anche chi intravede uno spiraglio di luce in fondo al tunnel. Sarà per le promesse fatte dal governo, sarà per i segnali di ripresa che arrivano dal mondo della produzione. Fatto sta che per qualcuno c'è da ben sperare, anche in vista di questo Natale. Spero che sia un Natale di pace, che porti gioia e serenità a tutti quanti e una riflessione sul nostro mondo, sui nostri veri valori.